ciao amici ben ritrovati ecco che oggi grattiamo due biglietti di miliardario da 5 ok su una spesa 10 euro vediamo un po quello che recuperiamo bene sono biglietti in serie 24 e 25 bene cominciamo dal 24 ok avviciniamo un po bene allora numeri vincenti 19 17 18 42 e 15 che numeri strani tutti i piccoli qua vabbè vediamo un po che ci portano ok allora primo numero 25 segue 13 36 14 e 37 poi abbiamo 12 abbiamo tutto la decina ma niente 12 40 38 22 e 24 niente poi abbiamo 42 si l'abbiamo preso numerino poi 33 19 hanno preso anche un altro numero 17 bravo anche tre numeri buono e 27 niente comunque abbiamo tre numerini vediamo 42 19 e 17 vediamo un po cosa si scelta 5 euro ecco di nuovo gratto quello sbagliato non dato retta ai 200 euro non dato retta che non ci non ci serve allora 19 5 euro altri ok sono 15 euro bene questo bigliettino ha vincente ok la cittadina di nuovo basta che gratta che gratta tutto tutto quello che gli capita sotto per la mano va bene comunque abbiamo preso 15 euro possiamo essere contenti abbiamo vinto comunque siamo in vincita bene passiamo con questo bigliettino passiamo al secondo numeri vincenti 45 21 38 27 e 44 bene vediamo un po ok prima numero 19 19 segue 22 abbiamo il 30 15 e 42 niente abbiamo il 45 e 44 abbiamo 29 37 niente abbiamo il 38 31 41 41 41 41 e 12 ok 16 segue 18 16 non ce l'abbiamo 18 neanche 17 neanche 24 non c'è e 46 neanche e ok va bene questo perdente comunque su 10 euro abbiamo preso 15 su 10 euro di spesa abbiamo preso 15 bene con questo bigliettino abbiamo vinto con tre numeri ok grazie per la visione signori a tutti vi ringrazio pollice in su se vi è piaciuto il video e mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi in tanti se non l'avete ancora fatto e niente vi auguro una buona giornata e ciao a tutti alla prossima grattata ciao a tutti un bacio ciao a tutti